Il centro storico di Pesero si illumina con una installazione artistica più unica che rara, che strizza l'occhio alla tecnologia. Domani sera alle 18 verranno accese le 470 lanterne dell'iniziativa Eluce Fu, nuovo capitolo della bella storia d'amicizia feconda tra Pesero e Alghero. Contemporaneamente verrà accesa Sinfonica, la porta sensoriale che recupera uno spazio tanto prestigioso quanto ricco di storia e tradizione come l'atelier Sora di Palazzo Mazzolari Mosca. L'idea nasce da lontano, 2017, il gruppo che lavora intorno a Antonio Marras, quindi Tonino Serra, Salvatore Addis, Maria Dolores Meloni, ci siamo ritrovati a pensare cosa poter fare per Natale. E Antonio, sollecitato anche da alcune considerazioni che è Natale e luce, abbiamo immaginato questa lanterna. Due ruote di bicicletta che però erano prese, quindi c'è anche un'idea di riciclo, dal primo allestimento dedicato al centesimo del Giro d'Italia. Che cosa ci mettiamo allora dunque in questa stoffa? Dei patchwork, quindi dei ritagli di stoffa, di pregio, e attraverso questo abbiamo creato questa tavolozza cromatica che di giorno è colorata e divertente, e di notte è chiaramente magica, perché davanti c'è il patchwork, dietro la stoffa è ritagliata, quindi la luce crea un riverbero sulla stoffa e di notte diventerà veramente straordinario. Le lanterne formeranno un suggestivo percorso luminoso lungo le vie del centro. Le sono state lavorate in patchwork, prima dagli studenti del liceo artistico Costantini Dalguero, da cui arrivano 330 pezzi, e poi da quelli del Mengaruni di Pesaro, che hanno restaurato le lanterne esistenti, creandone altre 140 attraverso un mese di laboratorio nei sotterranei di Palazzo Gradari. E alla luce romantica delle lanterne si aggiungerà quella ipertecnologica di Sinfonica, la porta sensibile in cristallo, offerta alla città da Nobento, industria 4.0, diamante italiano nella produzione di serramenti, ad alto valore tecnologico e dalle incredibili prestazioni. Sinfonica attende, pulsa e non appena percepisce l'avvicinamento di un visitatore, attiva le sue funzioni in un progetto curato direttamente dall'amministratore di Nobento, Andrea Alessandrini. La porta è fondamentalmente un sunto degli ultimi tre anni della ricerca e sviluppo dell'azienda che rappresento, che è nata da zero e oggi occupa 200 addetti, quindi è anche importante a livello manufatturiero per la provincia. Da Pesarese Doc mi è stata fatta questa richiesta e abbiamo portato la massima tecnologia che la Nobento oggi esprime a Pesaro, nella mia città natale.